Ragazzi, volevo ringraziare OBS Studio che ieri nella prima run di Resident Evil 3 mi ha crashato al boss finale, sì, al tanto nominato e memato Nemesis. Grazie OBS, grazie per avermi fatto scaricare l'aggiornamento. Ho aperto OBS, ieri saranno state le 10 qualcosa, aggiornamento, beh, aggiorniamo, aggiorniamo, c'era l'aggiornamento, OBS Live Studio, aggiorno, riavvio, ok, arrivo un'ora e mezza di gioco ulteriore oltre a quello che avevo già fatto, ho ammazzato il Nemesis e sì, l'acido, cazzi, mazzi e pallazzi, l'ho detto, vabbè, sta per finire il gioco e niente, mi deve crashare OBS, porco!